Il placarsi dell'emergenza Covid ha subito lasciato spazio all'antico, alle vertenze sindacali, eterne, che tornano a fare capolino in tutta la loro persistente gravità. Quella Samte, per esempio, le RSU sindacali chiedono un incontro urgente per discutere le sorti lavorative dei 39 dipendenti e, avendo preso atto delle gestioni di contratto di lavoro verso le società Erpini Ambiente, poste in essere per 5 dipendenti senza alcuna informativa preventiva né consultazione sindacale. Una condotta inaccettabile, tuonano i sindacati che chiedono un incontro urgente per trovare soluzione allo scopo di fugare qualsiasi malinteso e, soprattutto, per scongiurare ulteriori malumori e incomprensioni tra i lavoratori rimasti senza stipendio e senza informazione. A sostenere il portato dell'indignazione interviene anche il segretario della FPCGL Gianna Serena Franse, che a nome della categoria esprime ancora una volta disappunto per come la cosa è stata gestita da Samte e provincia a dispetto delle recenti dichiarazioni di apertura al confronto e condivisione sia del presidente Di Maria che del direttore generale Boccalone. Ci accorgiamo, dice la Franse, che trasferiscono personali ad Irpini Ambiente senza dire nulla, senza concordare criteri e modalità. Non va per niente bene, conclude la Franse. Speriamo vogliano essere coerenti con le loro stesse dichiarazioni e ci convochino ad Horas.